bello a tutti ragazzi e benvenuti sul canale io sono maxi e come sapete già tutti quanti questo aggiornamento biker è arrivato portandosi questo garage che state vedendo ieri live ho fatto vedere un po di cosine la live dura da un poco anche perché non ho preferito farveli vedere così singolarmente e come dicevo questo è un episodio di tuning in gta online in cui andrò a modificare questo zip diciamo o anche chiamato faggio sport andiamo a modificarlo ragazzi e andiamo a vedere com'è questo è diciamo un veicolo che fa parte del nuovo aggiornamento come state vedendo diciamo di fondo quando giro l'inquadratura ci sono anche altri veicoli dietro a quel coglione lì e quelli sono i veicoli del nuovo aggiornamento ragazzi allora io ho comprato questo garage ho comprato diciamo dei veicoli ho comprato più o meno quasi tutti i veicoli però ci sono alcuni che non consiglio ragazzi sinceramente alcuni potete tenerli solo se avete dei soldi come magari ho io e quindi potete provare un po' a tutti i veicoli perché altrimenti alcuni sono veramente inutili ragazzi questo questo ve lo posso dire con certezza comunque proseguiamo andiamo a modificare finire di modificare questo zip ragazzi no il compagno di molte persone di molti pischielli come si dice a Roma raga diciamo che questo qui si avvicina moltissimo allo zip e andiamo a vedere come si può fare in questo in questo caso potrete farlo diciamo come più vi piace come lo avreste sognato no anche se non ci sono molte libri e non ci stanno tanti cazzi da messe però qualcosina si può fare ragazzi quindi come state vedendo io sto modificando sto cercando dei colori adesso ci mettiamo un verde lime qui che mi piace che si intona coi cerchi picc'altro bel verde lime e il nostro zip è pronto ragazzi lo lasciamo così che è anche anche carino da vedere vedete qui ci abbiamo anche il coglione di turno dentro il garage abbiamo affittato il filippino no dai no non voglio andare contro nessuno ritiro quello che ho detto sul filippino come avete visto ragazzi ci sono dei veicoli nel mio garage poi andremo a vedere uno a uno nei prossimi episodi di tuning in gta online come state vedendo questo scuderino ragazzi questo faggio sport è lento come come una tartaruga alle olimpiadi se vogliamo fa veramente cagare quindi io vi consiglio di non comprarlo almeno che non abbiate moltissimi soldi perché è una cosa veramente inutile però è carino da vedere io è stata una delle prime cose che ho comprato ragazzi per questo video è tutto un saluto da maxi al prossimo video ciao a tutti ciao 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 ciao